Scusiamo, sto partendo. Sta andando da cadere? No, 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 io... Aspetta. Ho qualcosa per te. E che cos'è? Un momento. E che cos'è? Un momento. Un momento. Come da paragrafo 7,1b e da paragrafo 14, non avendo ricevuto da lei nessuna risposta alle mie. Edward Brimstone, procuratore legale, aveva un senso davvero distorto di come usare il suo potere. Va tutto bene? Cosa? Certo, certo, signor Brimstone, va tutto bene. Non avrò altra scelta se non considerarla inadempiente al contratto. Preferirei risolvere il problema amichevolmente. Correga, miseramente. Dove ero rimasto? Preferirei risolvere il problema. Oh, sì. In maniera che sia nell'interesse di entrambi, io sono pronto a prenderla a calci nel culo. E poi, sinceramente vostro, eccetera, eccetera. La finisca la... Te l'ho già detto, non mettere le mani sul mio culo, non farlo mai più. Non ti ho messo le mani sul culo, sono solo inciampato su di te, dovresti ringraziarmi, hai sempre una reazione eccessiva. Sei un maiano. Lo so bene.